ma benvenuti a tutti in questo nuovissimo video oggi andiamo a vedere quali sono stati i cambiamenti nelle offerte di telefonia mobile per questa seconda metà di settembre 2022 infatti anche se tantissimi listini il loro cambiamento l'hanno fatto all'inizio di settembre comunque ci sono stati alcuni cambiamenti iniziando da Iliad perché non è più disponibile l'offerta che prevedeva 150 gigabyte minuti ad sms illimitati a 9,99 ora i giga disponibili sono tornati a 120 quindi insomma non c'era questo cambio d'offerta che qualcuno aveva ipotizzato con ancora più giga staremo a vedere in futuro che cosa ci proporrà questo operatore francese ora passiamo agli operatori virtuali perché insomma di uno mobile che è un operatore virtuale strozzato a 60 mega in download e 30 mega in upload di rete Vodafone c'è poco da dire semplicemente vi volevo dire che hanno prorogato tutte le offerte fino al 20 settembre quindi se volete ancora hanno prorogato anche la sim e la spedizione gratis anch'essa fino al 20 settembre quindi se volete passare a uno mobile questo è sicuramente un ottimo momento con tutte le buone offerte che ci sono di cui abbiamo parlato e riparlato un po' di video fa ora parliamo invece di poste mobile che qualche settimana fa io vi avevo fatto un video apposito dove vi avevo fatto vedere quella da 40 giga a 4,99 beh ecco ora poste mobile ci ritenta ma si allinea agli altri operatori come Elimobile infatti su rete Vodafone fino a 300 mega in download e 50 in upload ci offre con questa esclusiva online fino al 18 settembre la crea mi wow 30 giga con minuti e smessi limitati e 30 giga a 4,99 al mese sim e 20 euro con 10 euro di traffico anche se mi ero dimenticato poi l'ho visto in fase di editing di dirvi anche che l'opzione da 8,99 è stata prorogata ora ve la faccio vedere è proprio qui 300% digital a 8,99 300 giga ed è stata prorogata fino al 16 ottobre 2022 un'offerta veramente molto interessante e questo è per quanto riguarda l'operatore poste mobile su rete Vodafone ora passiamo all'operatore Kena Mobile di rete team perché io già vi avevo fatto vedere con il video di inizio settembre che era insomma era uscita questa offerta qui da 100 giga e 5,99 ma c'è una ulteriore novità che è spuntata da pochi giorni ossia questa qui per nuovi numeri veramente molto molto interessante perché ci offre a 9,99 euro al mese 200 gigabyte 1000 sms minuti limitati ovviamente strozzata a 60 mega in download e 30 in upload con attivazione sim e consegna gratis quindi io direi un'ottima offerta soprattutto se da voi la rete team insomma ha una buona ricezione ha una buona copertura e questa era la nuova offerta per i nuovi numeri ora chiudiamo con veri mobile di cui già vi avevo parlato quindi se volete approfondire la questione andate nel video qui sopra che vi linko comunque quello che vi volevo dire è che le offerte praticamente sono rimaste invariate l'unica cosa che è cambiata è la seguente che ora ci sono dei buoni amazon da 10 euro in regalo per chi fa portabilità online con queste offerte qui ora ve le faccio anche vedere tutte queste offerte in portabilità vi danno un buono amazon di 10 euro e in più per i nuovi numeri l'attivazione è passata da 1 euro e 99 che era il costo precedente di qualche tempo fa ora è passata a 0 euro quindi se volete diventare nuovi clienti con veri mobile questo è sicuramente un ottimo momento perché avete questo sconto qui bene io vi saluto vi ricordo che il mio codice amico veri mobile è il seguente se volete avere altri 5 euro di bonus basta inserire in fase di acquisto il codice cyp7w 94t e quindi vi conviene ancora di più passare a veri mobile ma ora io direi di salutarci definitivamente un saluto da agnax e ci rivediamo noi al prossimo video un saluto da agnax e ci rivediamo noi a tutti